Un po' di scenografietta, no? Lo prendiamo. Fatto, grazie. Grazie a voi. Prego. Ah, benvenuta, non si deve riferire. Vediamo che penso il tempo. Quello, purtroppo... C'è la scritta. Piccola, piccola cosa. Il riferimento di un piano che fa la controdasso della pioggia, originale, però non si può dire che cosa. No, non lo so, non lo so. Ma va adesso. Sai che c'è la sola seconda? Ma c'è anche dolce, eh? Sì. Allora, tu che stai un'opera di umore, che cosa ne vedi? Di questa robetta.